Il problema fondamentale è che il Movimento 5 Stelle era un sogno, un grande sogno, però con dei problemi progettuali che portava dentro. Non si può parlare di partecipazione della gente, parlare di uno vale uno, parlare di democrazia diretta, se prima di tutto non c'è la democrazia. Cioè se tutto il Movimento risulta di proprietà di una persona che decide chi fa o cosa, quando la fa e perché. La nomina di queste 5 persone è l'ultimo, ma ce ne saranno probabilmente anche degli altri. Un altro segno, un ulteriore segno del fatto che nel Movimento comanda Grillo e che tutto il resto sono persone che purtroppo esegono ordine. Il motivo per cui cominciai ad avere problemi alla fine dell'anno scorso e poi all'inizio di quest'anno, posi con forza il problema che Grillo non poteva fare tutto lui e tutto come voleva lui. Lo portò a cacciarmi sostanzialmente lui dal Movimento, però i problemi sono rimasti tutti dentro. Non ero io il problema, il problema è il Movimento per come era costruito, non poteva andare avanti.